... Bisogna lasciarli uniti, almeno sino a quando non si troverà una soluzione, condivisa. Condivisa, è da qui. Lei ritiene che Maria abbia le carte in regola per gestire un fratello un po' pazzo e una sorella un po' ebete. Io non li conosco. Conoscevo il loro padre, il teatrino dei pupi, ma loro no. Lì dentro stanno cercando di ricominciare. E il fatto che il posto sia quello non è secondario. Lo hanno scelto loro. Lo hanno arredato, sistemato, ripulito. Maia sta facendo un lavoro straordinario per i suoi fratelli. Il lavoro migliore che si potesse fare. E soprattutto per Lorenzo, che è senza dubbio più debole di loro. Il rompere ora sarebbe devastante. Loro non vedono lo squalore che vediamo noi. Per loro quel tugurio è la migliore delle case possibili. Io non viag outbreaks. Prego! Che basta, che basta,amentalmente! Sì, sì, sì. Il giorno arriverà, ci troverà superstiti della notte sopravvissuti. Sì, sì.